Perché dovete prenderlo, è bellissimo. Basta, dico tutto. E saluto a tutti ragazzi, questo è il Watermelon Channel. Quest'oggi voglio parlarvi dei Days of Play, in particolare di alcuni titoli con un paio di titoli bonus, diciamo, nella nostra top 10 di titoli che ci sentiamo di consigliarvi e da acquistare appunto in promozione in occasione dei Days of Play che si terranno su PlayStation, sul PlayStation Store, fino al 9 giugno. Quindi sono delle offerte praticamente quasi imperdibili. Ci sono appunto dei giochi che anche più recenti sono a prezzo scontatissimo. Però noi appunto abbiamo fatto una cernita di titoli, 10 titoli più 2 bonus, che ci sentiamo appunto di consigliarvi perché li abbiamo giocati, perché li conosciamo, perché sono famosi e diciamo anche la loro fama è dovuta a una ragione in particolare. Ma prima di iniziare il video voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, vi piacerà, vi sembrerà utile e di supportarci ancora di più. Se volete, nella sezione abbonamenti potete abbonarvi al nostro canale per accedere a numerosi vantaggi oppure tramite il tastino grazie che trovate qui sotto a questo video scorrendo dopo i mi piace e non mi piace eccetera eccetera trovate il tastino grazie e qui potrete fare una piccola donazione al canale per supportarci. Detto questo, vi ricordo che siamo quasi ai 3000 iscritti, quindi ci sarà un mega contest al raggiungimento di questo traguardo, ci saranno dei premi, quindi non perdetevelo e soprattutto invitate anche i vostri amici a iscriversi al canale così che si potrà arrivare prima al contest e quindi ai nostri 3000 iscritti. Detto questo, iniziamo subito il video. Allora, io vorrei fare una sorta di escalation per prezzo, non per preferenza, partendo dal prezzo più alto a quello più basso. Abbiamo il primo titolo che ci sentiamo di consigliarvi, diciamo la selezione l'ho fatta io mai a nome anche di Leo e abbiamo Crash Bandicoot 4 che adesso in sconto ha 34,99 euro, quindi 35 euro per un gioco che vale la pena di essere giocato perché va a riprendere un colosso, diciamo un personaggio molto importante nella storia dei videogiochi che ha fatto la storia effettivamente. È un gioco, tra le virgolette, considerato per bambini ma che in realtà può essere giocato da tutti e che è proprio bello, è considerato un gioco come una sorta di svago che però a me fa parecchio bestemmiare per cui io nei giochi non bestemmio mai ma lì proprio con Crash caccio il meglio di me. Veramente sembra per bambini ma in realtà è molto complicato da giocare, però è un'esperienza che va fatta e se non l'avete ancora acquistato vi consigliamo di acquistarlo adesso che ci sono i Days of Play. Secondo titolo, Resident Evil Village. Resident Evil Village è un titolo che praticamente parla da solo come anche i prossimi titoli che vi mostreremo, è un gioco fantastico, veramente molto bello, è un'esperienza neanche tanto lunga, cioè non è un gioco molto lungo che poi a lungo andare può annoiare, è un'esperienza diciamo horror, tra l'altro noi questo titolo l'abbiamo streammato, l'abbiamo portato in live tutto dall'inizio alla fine tra me e Leo, cioè praticamente l'abbiamo giocato metà io e metà Leo e appunto se volete vedervi un po' di gameplay per capire se vi può interessare, se vi può piacere il titolo vi consigliamo di andare a riprendere i nostri video di Resident Evil Village, magari vi metto il link del primo gameplay così potete darvi un'idea ecco del titolo, ve lo metto in descrizione. E il gioco costa 30 euro ed è un gioco che vale la pena di essere giocato per il suo genere, a chi piace il genere horror diciamo. Poi abbiamo Far Cry 6, allora Far Cry 6 è il gioco che ci ha regalato Nico e noi ancora lo ringraziamo perché ci ha fatto scoprire un gioco veramente bello, abbiamo anche il famosissimo Giancarlo Esposito che si è prestato appunto a realizzare il, possiamo dire il protagonista, l'antagonista diciamo di questo gioco che è veramente bello e i Far Cry non deludono mai. Al di là dell'aspetto grafico è comunque una bella avventura tutta da esplorare e il gioco costa 27,99 euro scontato con i Days of Play. Il quarto titolo che vi vogliamo consigliare è Cyberpunk 2077, un titolo molto chiacchierato, molto discusso per via della sua fama di essere tutto buggato eccetera perché è stato presentato pieno di errori ma poi ha avuto un boom nelle vendite una volta uscito diciamo l'aggiornamento per PS5, per Next Gen ha avuto il boom di vendite perché finalmente è stato corretto tutto quello che doveva essere corretto a distanza di due anni ci sono voluti due anni ma alla fine ce l'hanno fatta la CD Projekt Red ce l'ha fatta a correggere tutto e a riavere questo boom di vendite il gioco costa 24,99 super scontato è bello, è bello, l'abbiamo portato tante volte in live gli abbiamo parlato tante volte qui sul nostro canale quindi conoscete la nostra opinione su Cyberpunk 2077 compratelo perché ne vale la pena Al quinto posto, quindi a metà, abbiamo sempre il prezzo di 24,99 e The Last of Us 2 per chi ha giocato il primo deve giocare al secondo non può non giocarci per chi non ha mai giocato il primo e quindi noi vi consigliamo il secondo è perché abbiamo anche amato il primo quindi eventualmente comprate il primo poi il secondo oppure tutti e due insieme per attaccare subito col secondo titolo una volta finito il primo The Last of Us è un gioco stupendo tutti questi giochi che vi consigliamo chiaramente sono giochi che abbiamo apprezzato noi amanti del genere di tutti i generi in realtà qua in questa lista c'è un po' di tutto veramente sono dei titoli che insomma sono famosi ma la loro fama è dovuta a qualcosa cioè deve essere un motivo per cui sono così famosi The Last of Us 2 è uno di quei titoli che deve essere giocato che è bellissimo che tra l'altro nel 2 c'è questa dualità c'è questo switch che si può fare tra i due personaggi che ti fanno giocare sia con il protagonista ma anche con l'antagonista per farti capire il suo punto di vista cioè è una cosa che raramente viene fatta nei videogiochi se non mai non lo so comunque è un gioco veramente bello un'esperienza da fare se non avete giocato al primo giocate al primo e poi al secondo mi raccomando al sesto posto abbiamo Red Dead Redemption 2 allora premessa non l'abbiamo giocato non l'abbiamo mai acquistato però conosciamo bene la serie di Red Dead Redemption e ci siamo tante volte documentati perché volevamo acquistarlo poi in tante occasioni abbiamo preferito acquistare altro ma comunque è un gioco bello ci sentiamo di consigliarvelo è molto coinvolgente ecco e il prezzo di Red Dead Redemption 2 è di 23,99 euro ed è anche appunto scontatissimo per cui vi consigliamo di acquistarlo e probabilmente lo faremo anche noi presto perché ci manca come gioco nel senso da tanto che vogliamo acquistarlo probabilmente questa sarà una buona occasione per farlo al settimo posto abbiamo un gioco che parla da solo ragazzi io vi dico il titolo e poi non vi dico altro perché non ce n'è bisogno Skyrim di Elder Scrolls 5 Skyrim come anche un titolo che verrà dopo molto dopo tra un po' parla da solo non vi dico nulla cioè sta lì Skyrim 15,99 prendetelo perché dovete prenderlo è bellissimo basta tra l'altro è anche ottimizzato perché Skyrim è un gioco vecchiotto però ora è stato ottimizzato anche per PlayStation 5 quindi cioè quale buona occasione prendetelo ora adesso nel carrello vi voglio vedere ora il gioco mi raccomando vi guardo ottavo posto abbiamo anche un gioco di auto di simulazione abbiamo voluto mettere un po' di tutto in questa lista ed è il gioco è assetto corsa competizione 15,99 un bel gioco di simulazione di corsa non costa neanche tanto non costa neanche tanto è uscito anche di recente diciamo nel 2020 anche per PlayStation 5 è un gioco di corsa cioè nel senso è bello la grafica è bella ve lo consigliamo ve lo consigliamo assolutamente al nonno posto abbiamo un gioco che abbiamo acquistato da poco da pochissimo che stiamo portando in live proprio da pochissimo cioè tipo ieri abbiamo iniziato a portare in live se non l'avete ancora vista la live la metto sempre in descrizione e chiaramente tutti i giochi che abbiamo giocato che vi è nominato adesso nella lista io vi metterò in descrizione anche il nostro gameplay in modo tale che così voi potete vedere un po' come come va giocato e vi da un'idea insomma di come può essere il gioco Metro Exodus appunto è un titolo che volevamo da tempo e con i days of play l'abbiamo acquistato perché era a prezzo stracciatissimo di 7,49€ quindi l'abbiamo portato anche in live proprio ieri quindi l'avrete magari visto se non l'avete visto vi lascio in descrizione il link vi ho detto così potete vedere com'è è bel gioco ambientato in Russia c'è questa tipo questo mondo che loro sono costretti a vivere nella metro nella metropolitana però poi c'è questo soldato che è protagonista del gioco che vuole uscire allo scoperto perché dice ci deve essere un modo per vivere anche non voglio vivere sotto terra per tutta la mia vita piuttosto scelgo di rischiare il tutto e per tutto di esplorare per vedere se è possibile vivere cioè tornare diciamo alla vita di prima detto in poche parole spiegato in poche parole al decimo posto abbiamo questo è un altro gioco che parla da solo ragazzi The Witcher 3 Wild Hunt The Witcher come Skyrim è un gioco che ha fatto la storia che praticamente se non l'avete ancora giocato vivete in un mondo parallelo vabbè magari non siete amanti del genere vi posso anche capire e comunque è bellissimo costa adesso 5,99 euro quindi ragazzi cioè stiamo parlando proprio di spiccioli fondamentalmente quindi acquistatelo anche se lo dovete tenere lì e non giocarci molto perché come Skyrim The Witcher 3 è un titolo un po' lunghetto però comunque è un titolo che va tenuto nella lista va tenuto tra i giochi perché va assolutamente giocato ragazzi sono titoli che sono magari nella nostra lista abbiamo messo dei titoli un po' scontati però sono titoli che sono belli che vi consigliamo quindi al decimo posto che tra l'altro è appunto il più economico è The Witcher 3 abbiamo detto che questa lista non l'abbiamo fatta a livello di prezzo quindi dal più alto al più basso non hanno ordine di preferenza perché lì sarebbero non dico tutti alla pari ma quasi perché sono tutti veramente dei titoli che sono consigliatissimi quindi The Witcher 3 5,99 acquistatelo mi raccomando perché è molto bello abbiamo detto 10 titoli più 2 bonus i 2 bonus sono uno che è esclusivo la playstation 5 e che ancora il prezzo è un po' altino ma comunque ci sono i days of play comunque un pochino scontato e vedo buttiamo lì Ratchet & Clank Rift Apart li ho portati anche in live su Twitch ho preso l'estratto delle live di Twitch e l'ho messo su YouTube come video quindi anche qui vi caricherò il video insomma dove vi mostro un po' di gameplay il prezzo è di 49,59 mi sembra comunque intorno ai 50 euro esclusivo la playstation 5 quindi non tutti lo potranno acquistare perché ancora non tutti hanno la playstation 5 ma comunque per chi ce l'ha ve lo consigliamo è un bel titolo è un gioco tra virgolette sempre per bambini sempre tra virgolette perché sono giochi tutti giochi in realtà non hanno età altro titolo bonus che costa 25,99 è Kena Bridge of Spirits 26 euro di gioco io lo sto ancora giocando proprio l'altro ieri mi sembra perché questo video non so quando uscirà precisamente quindi lo sto registrando prima voi lo vedete postumo e quindi non precisamente non mi ricordo comunque di recente ho iniziato proprio il gioco quindi consigliato con riserva perché non avendolo ancora finito non avendo cioè avendolo iniziato proprio da poco due ore di gioco alla fine ho fatto quindi non è tantissimo però mi sta piacendo mi sta piacendo se volete appunto un altro titolo spassionato così da giocare in realtà la lore la storia del gioco è molto 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 profonda a tratti mi stavo anche commuovendo quindi graficamente sembra per bambini in realtà non lo è per niente perché non è cioè ha una trama molto profonda che difficilmente bambini molto piccoli possono capire possono effettivamente provare a livello di emozioni comunque ve lo consiglio perché comunque è molto bello però diciamo non saprei precisamente se consigliarvelo proprio nella top 10 dei videogiochi da acquistare di Days of Play perché appunto non avendolo giocato molto non saprei dirvi comunque ragazzi io ho parlato proprio tantissimo 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 quindi basta ora non parlo più mi raccomando mettete mi piace se il video vi è piaciuto e vi è sembrato utile commentate anche i vostri giochi preferiti e quali avete acquistato oppure vorresti acquistare con i Days of Play e niente commentate quello che vi pare iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti mi raccomando e alla prossima ciao